Con la vendita di questo calendario siamo riusciti a portare a teatro chi non può farlo, quindi le fasce più deboli della nostra città. In un momento in cui tra l'altro le vetrine brillano è fuori a festa, ma non per tutti ed ecco che arriviamo noi per portare i sorrisi dove c'è sofferenza, dare voce a chi non ha voce perché soltanto così il Natale è davvero di tutti. Non è soltanto beneficenza ma è anche valorizzazione dei talenti locali e del nostro territorio e quindi per questo abbiamo scelto per questa volta la scuola Fiera Mosca perché ci sono davvero dei talenti che bisogna far conoscere ai più. Il 2024 è già alle porte, che cosa state già immaginando? In realtà già c'è in cantiere qualcosa di bellissimo ed è la stanza divina all'ospedale di Miccoli di Barletta nel reparto di oncologia diretto dal professor Gadaleta. Lì porteremo il bell'essere, lo chiamiamo noi, in ospedale per tutti i pazienti oncologici. Grazie.